Ciao a tutti, oggi vediamo come modellare da zero un oggetto tridimensionale a livello di mesh tramite l'edit mode di Blender. Nello scorso video abbiamo visto come manipolare degli oggetti già pronti, quindi delle primitive, all'interno di Blender, semplicemente cambiandogli le dimensioni, la scala, la posizione e quindi allinearli per creare oggetti più complessi. Tuttavia la caratteristica della modellazione 3D è proprio quella di poter modificare il singolo oggetto per creare qualcosa di più complesso. Per poterlo fare dobbiamo prima capire come è fatto un oggetto tridimensionale. Creiamo un nuovo oggetto, andiamo in alto a sinistra nella nostra viewport e vediamo che c'è scritto Object Mode. Se andiamo a selezionare questa tendina ci apre la possibilità di cambiare modalità. Quello che a noi interessa è l'edit mode, che ci permette di modificare il singolo oggetto che abbiamo selezionato visualizzando la struttura dell'oggetto stesso, che si chiama appunto Mesh. Una Mesh che cos'è? Di fatto è qualsiasi oggetto tridimensionale. Si chiama così proprio perché è una specie di reticolo, come vedete ci viene sottolineato con questi colori. Un reticolo di cosa? È chiaramente un reticolo fatto di geometrie, quindi di punti, di lati e di facce. Quando parliamo di modellazione, quindi parliamo di poter modificare singolarmente questi elementi. Quindi se noi per esempio volessimo modificare la forma di questo cubo, dobbiamo avere la possibilità di selezionare questi elementi. Sempre in alto a sinistra, di fianco a Edit Mode, vedete che abbiamo la possibilità di selezionare tre diversi tipi di oggetti, che sono appunto i vertici, quelli già selezionati di default, i edge, quindi i lati e le facce. Si può anche utilizzare la scrocciatoria di tastiera 1, 2 e 3 per cambiare velocemente la modalità. Andiamo sui vertici, vedete che a questo punto noi possiamo col mouse modificare i singoli vertici e solo quelli. Se noi andiamo in un punto intermedio dove non ci sono vertici, non possiamo selezionare niente. Questo è un concetto fondamentale proprio perché sta alla base del fatto che ogni oggetto ha un determinato numero di vertici. Se noi vogliamo effettuare delle modifiche più puntuali, dobbiamo aumentare il numero di vertici. Quindi chiaramente è un po' come la risoluzione nelle fotografie, per cui più è alto il numero di vertici, più abbiamo per così dire risoluzione, nel senso che avremo più dettaglio perché potremo modificare in maniera più puntuale l'oggetto. Quindi se noi volessimo fare una modifica in questo punto dovremmo creare dei vertici in più perché adesso non li posso selezionare. Chiaramente più vertici ci sono, più l'oggetto è pesante e più possono esserci anche problemi poi nelle fasi successive del lavoro. Selezioniamo quindi un vertice e proviamo liberamente, come abbiamo già fatto nella scorsa lezione, a muoverlo con gli stessi comandi che abbiamo già visto. Quindi per esempio spostandolo in una direzione precisa su un'asse oppure anche liberamente. Vedete che l'oggetto viene proprio deformato, quindi noi in questo modo andiamo a cambiargli la forma. Possiamo ovviamente selezionare più vertici oppure cambiare modalità, quindi andare a selezionare i lati se dobbiamo per esempio selezionare più di un vertice contemporaneamente e cambiare quindi proprio la forma di quello che era inizialmente il cubo oppure le facce. Le facce vuol dire appunto prendere tutto quello che ha quattro lati. Ovviamente con il controllo di selezione control per esempio possiamo selezionare più elementi ed effettuare le nostre modifiche. Per uscire o entrare da edit mode si può anche utilizzare una scocciatoia di tastiera che è appunto il tasto tab che ci permette di uscire ed entrare velocemente da questa modalità. Una volta che siamo usciti tutto questo oggetto si comporterà come il cubo iniziale nel senso che viene considerato un unico oggetto, cioè un'unica mesh. Quindi noi possiamo sempre applicare per esempio le modifiche di rotazione, scala e movimento ma se vogliamo effettuare delle modifiche a livello di mesh dobbiamo sempre entrare in edit mode. Lo cancelliamo e per rendere chiaro il discorso del numero di vertici proviamo a inserire una sfera. Vedete che vi apre un pannello in basso che vi fa vedere il numero di segmenti e anche il numero di ring. Vedete che se io vado per esempio a cambiare il numero di segmenti, andiamo a esagerare, li portiamo al numero minimo che è 3, più che una sfera diventa una forma geometrica diversa. Per esempio con questi quattro lati abbiamo una forma geometrica più squadrata. Questo per il discorso che abbiamo detto prima e lo stesso vale per i rings che quindi sono appunto le circonferenze. Cambiando questi valori come se noi cambiassimo la risoluzione. A livello pratico, se io adesso entro in edit mode, visualizzo di fatto la mesh. La spostiamo più in alto in modo che non abbiamo il piano di mezzo. Entriamo in edit mode. Vedete che questo è tutto quello che io posso modificare. Per comparare ne usiamo un'altra. Aumentiamo il numero di vertici. Chiaramente se entro in edit mode io posso modificare in maniera più puntuale. Quindi come se avessi aumentato diciamo così la risoluzione della mia sfera. Quindi posso fare questa modifica, mentre in questa sfera non posso farla. Posso prendere soltanto l'intera faccia e muoverla. Questi sono concetti fondamentali per comprendere poi come andare a creare i nostri oggetti. Per però capire meglio ci conviene creare un oggetto molto semplice in modo che nel costruirlo capiamo meglio questa procedura e questi concetti. Per esempio potremmo provare a fare un oggetto molto semplice come un vecchio televisore o un vecchio schermo da computer. Quindi una forma geometrica squadrata ma che ha comunque delle rientranze e delle sporgenze particolari. Con CTRL A creiamo un nuovo cubo. Lo spostiamo in un'area dove possiamo vederlo senza che vada a sovrapporsi ad altri oggetti. Iniziamo intanto partendo da almeno delle proporzioni che possano essere sensate. Ora non ci preoccupiamo delle dimensioni poi lo andremo a scalare successivamente. Partendo da questa base andiamo a creare per esempio lo schermo del televisore e appunto facendo finta che sia per esempio un vecchio monitor o una vecchia tv creare anche la sporgenza che è sul retro oltre ad altri dettagli. Quindi entriamo in edit mode. Se vogliamo creare la cornice ci serve ulteriore geometria. Quindi ci servono altri vertici qui all'interno. Per farlo possiamo usare questi strumenti che vedete qui. Se non sapete appunto di cosa si tratta potete allungare andando a trascinare le icone sulla destra viene indicato il titolo e poi sostando sopra anche la spiegazione della funzione specifica. Quello che ci serve in questo caso per esempio è Inset che come vedete anche dall'immagine permette di creare della geometria all'interno di una faccia selezionata. Lo clicchiamo, andate su questa specie di maniglia e vi muovete col mouse. A seconda di quanto vi muovete vi viene creata la geometria in più all'interno della mesh. Quindi per esempio noi vogliamo fare la cornice. La facciamo spessa circa così ed ecco che l'abbiamo creata. Poi possiamo ovviamente andare avanti dove se servirci ma in questo caso va bene così. A questo punto noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare una rientranza. Però per capire meglio ci conviene prima fare la stessa operazione anche per il retro. Noi abbiamo una rientranza da questa parte e una sporgenza dall'altra. Quindi facciamo il retro, Inset che può essere abbreviato con la I, quindi premendo vi viene attivata automaticamente. Facciamo una cornice leggermente più sottile. Ovviamente se avessimo cambiato idea nel frattempo possiamo sempre modificare la scala di questa faccia. Per esempio io potrei volere questa forma geometrica. E adesso c'è una cosa molto importante che è il concetto di estrusione. Perché praticamente è la funzione con cui si costruisce la maggior parte dei oggetti 3D. Se noi selezioniamo una faccia e la spostiamo vedete che creiamo una sporgenza. Però questa sporgenza com'è fatta? È una sporgenza che deriva dal fatto che la faccia è spostata e quindi si porta dietro anche il collegamento con gli altri vertici. Quindi questi segmenti vanno a seguire lo spostamento che io vado a fare. Questo chiaramente va benissimo se è quello che vogliamo fare. Ma se noi vogliamo creare invece una sporgenza che lascia invariata tutta la geometria attorno e fa uscire per così dire soltanto questa faccia. Dobbiamo utilizzare l'estrusione perché l'estrusione non sposta semplicemente la faccia come in questo caso ma crea una nuova geometria. Crea del materiale che prima non c'era. Clicchiamo estrudi. Usiamo sempre la maniglia. Vedete che tirando fuori ci viene creato di fatto del materiale aggiuntivo e possiamo creare la sporgenza come volevamo lasciando invariato tutto quello che c'è attorno. Anche in questo caso se voglio cambiare la forma posso scalarla e quindi andare a creare questa specie di trapezio. Posso ovviamente andare a spostare quello che ho appena creato quindi cambiandogli la forma e se volessi continuare ovviamente potrei sempre andare a distruggere ulteriormente e creare nuova geometria nel caso volessi. Quindi sempre anche qua con la scorciatore di tastiera in questo caso E per estrudere. Quindi potrei fare questo semplice pannello. La cosa interessante dell'estrusione è che può essere fatto anche in negativo e quindi invece che creare nuova geometria all'esterno viene creata all'interno. E questo è il caso del nostro monitor. Quindi noi andiamo a selezionarci la faccia. Questo perché? Perché se io spostassi semplicemente questo avremmo lo stesso problema. Cioè il bordo viene modificato. Io non voglio che questo bordo venga modificato in questo modo. Voglio mantenere il bordo fisso, creare una nuova geometria per creare una specie di solco, una rientranza. Quindi schiaccio E e invece che andare avanti vado indietro. Vedete che mi crea appunto la rientranza che stavamo cercando. Creando di fatto il piano dello schermo. Poi anche in questo caso posso scalare e quindi creare una superficie leggermente curva, se mi interessa. Posso sempre modificarlo e decidere in che modo. Però abbiamo creato un maggiore dettaglio. L'estrusione funziona sia con le facce, sia con i punti che con i lati. Poi magari vedremo degli esempi su oggetti specifici. Però potete anche sperimentarlo subito. Vedete che se volessi spostare questo avrei una deformazione di tutto quello che c'è attorno. Mentre schiacciando E l'estrusione mi crea questa nuova geometria. Ci sono dei casi in cui può essere comodo lavorare a livello di vertici o a livello di edge. Allo stesso modo noi potremo voler creare per esempio una sorta di piedistallo. Quindi anche in questo caso selezioniamo la faccia. Facciamo sempre Inset. Eventualmente ce lo andiamo anche a scalare in una direzione precisa. Quindi potrebbe essere qualcosa del genere. Schiacciamo E per estrudere. Ed ecco che ci siamo. Abbiamo fatto una sorta di piano però non basta. Facciamo un'altra estrusione. E potremo andare a crearci appunto il supporto. Qui dipende dalla forma che vogliamo fare. Facciamo qualcosa di estremamente semplice. Volendo possiamo anche andare per esempio a scalare questo. E avere semplicemente il nostro supporto. Eventualmente lo andiamo a spostare leggermente. C'è anche lo strumento Bevel che è molto importante. Andiamo a vedere per esempio cosa fa in questa zona. Se noi selezioniamo questa faccia e schiacciamo Bevel. Usiamo sempre la maniglia. Vedete che vi crea questo effetto. In cui vi crea una geometria nuova che va a creare questa sorta di scanalatura. E quindi questo può essere interessante quando abbiamo bisogno di maggiore dettaglio. E soprattutto sui lati di una determinata superficie. Anche il Bevel può essere usato per esempio per avere maggiore dettaglio direttamente sui edge. Quindi per esempio qui potrei fare Bevel. E vedete che mi fa questa specie di smussatura ulteriore. Quindi mi va a creare un angolo non perfettamente perpendicolare. Chiaramente queste operazioni possono anche essere fatte in gruppo. Quindi io posso selezionare tutti questi angoli. E poi andare a dare il comando di Bevel. E in questo modo è stato fatto su tutti e quattro gli angoli. Quando usciamo da edit mode possiamo vedere la geometria senza la griglia della mesh per esempio. E vediamo ancora due strumenti principali. Poi il consiglio è quello di provare a sperimentare utilizzandoli direttamente. L'utilizzo di molti dipende anche dal tipo di oggetto. Uno molto importante è il Loop Cut. Il Loop Cut permette di aggiungere nuovi vertici appunto andando a creare dei loop. Come vedete possono essere create in orizzontale o in verticale. Chiaramente questo dipende anche dal tipo di geometria che abbiamo creato. Quindi potrebbe come in questo caso interrompersi in questa parte. Oppure nel caso di questa geometria fare effettivamente tutto il giro. Questo può essere comodo perché ad esempio se io volessi creare qui ulteriore geometria. Potrei semplicemente cliccare tenendo premuto posso decidere di spostare il mio loop nel punto che mi interessa. Ed ecco che è stato creato. In realtà se vedete qua in basso mi dà anche la possibilità di cambiare il numero e aumentare. E quindi aggiungere direttamente diciamo una distanza equivalente a dove l'abbiamo inserito. Ulteriori loop senza farli a mano. E qui ci sono tutte le opzioni che ovviamente noi possiamo creare. Per ora lo facciamo a mano e quindi vedete che per esempio se io adesso volessi creare un dettaglio in questa parte lo posso fare. Quindi per esempio potrei estrudere leggermente questa faccia o all'interno o verso l'esterno. E avere la geometria che mi interessa solo in questa parte dove ho creato il loop. E a sua volta io potrei invece volere cliccando qui aumentando il numero di tagli aumentare la geometria nel senso orizzontale. Per poi andarmi a selezionare solo le facce che voglio. E tramite un'estrusione creare maggiore dettaglio. Per esempio per fare questa scandalatura che è puramente ovviamente estetica di prova. E quindi creare anche queste forme irregolari sulla singola faccia. Un altro strumento interessante è appunto il coltello. Quindi con lo strumento knife possiamo diciamo disegnare a mano libera su una determinata faccia la geometria che vogliamo. Ovviamente è importante chiudere la forma. Schiacciando invio diamo la conferma. Chiaramente bisogna stare attenti a usare questa funzione perché viene creata della geometria in più che può essere disordinata. Adesso lo facciamo giusto per far capire come funziona. Possiamo ovviamente modificarla se non abbiamo raggiunto il risultato che volevamo. E ora che abbiamo questa nuova geometria possiamo come sempre effettuare per esempio un'estrusione o in un senso o nell'altro. O usare gli strumenti che abbiamo già visto fino adesso. Adesso così un po' troppo. Ed ecco che abbiamo creato il nostro pulsante di accensione. Una cosa importante quando si modella ma questo lo vedremo anche nei prossimi video. è cercare di mantenere una mesh pulita quindi più possibile lavorare si dice in quads quindi in facce che hanno quattro lati. Evitare triangolazioni e soprattutto che siano ordinate in modo che sia facilmente modificabile. Quindi usare il minor numero possibile di geometria. E questo lo vedremo anche nel momento in cui si dovranno animare e deformare degli oggetti. Perché nel momento in cui abbiamo una mesh disordinata e ad esempio con vertici in posti dove risultano duplicati uno sopra l'altro oppure vertici scollegati eccetera. Possono poi creare dei problemi nelle fasi successive. Ci sono ovviamente un sacco di strumenti che riguardano la mesh quando siamo in edit mode. Quindi se voi andate in mesh vedete che c'è una serie di opzioni. E divise anche per categoria quindi per esempio i vertici, gli edge e le facce. Quindi è possibile per esempio fondere due vertici in uno solo e possiamo creare da zero della geometria connettendo un vertice all'altro o delle facce una con l'altra. E sono tutte cose che vedremo successivamente. Adesso prendiamo questo semplice oggetto e lo andiamo a posizionare sulla nostra scrivania. Quindi come abbiamo già visto lo scaliamo in modo che abbia una dimensione realistica. Possiamo anche attivare lo snap come abbiamo visto. Nel mio caso snap al vertice più vicino. In questo modo premendo G lo posso muovere liberamente. Lo allineo al mio tavolo. Ed ecco che lo abbiamo inserito. Queste erano le funzioni di base per iniziare a modellare oggetti semplici in 3D in Blender utilizzando l'edit mode. Un esercizio utile può essere quello di ad esempio proseguire e provare a creare qualche altro oggetto sempre geometrico come può essere la tastiera oppure il mouse o il case del computer che possono sempre far parte appunto della nostra scena. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. iscrivito iscrivito would e iscrivito